Ciao, io sono Elena e oggi faremo una sessione di EMDR. Se hai cliccato questo video può essere stato per semplice curiosità o perché sei già a conoscenza di questa tecnica. Ci tengo a specificare che non sono assolutamente una professionista, non sono qualificata, ma mi è stato richiesto di fare questo tipo di video utilizzando questa tecnica e io spero veramente possa aiutare qualcuno. Le EMDR sta per Eye Movement Desensitization and Reprocessing, che significa desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari. È una tecnica utilizzata con lo scopo di riuscire a superare i traumi passati o le situazioni che causano ansia, stress. E perciò ti avviso che in questa sessione ti chiederò di entrare in contatto con eventuali traumi che potresti avere o ansie, situazioni che ti causano ansia, stress forte e quindi se non vuoi pensare a queste situazioni ti consiglio di cambiare video. Come si svolge questa tecnica? Questa tecnica andrà a sovrapporre a questi eventi negativi degli stimoli positivi sia uditivi che visivi. La cosa interessante è che appunto in questa tecnica vengono usate delle tecniche che assomigliano molto ai classici triggers dell'ASMR perciò ho pensato che potesse essere comunque rilassante. Quindi ti chiederò di pensare ad una situazione tra poco. So che c'è questo schermo che ci separa ma sono convinta che se ci credi, se ti focalizzi, se ti concentri, questa sessione potrà esserti d'aiuto anche solo un pochino, un pochino, un pochino. Ricordati che se in qualsiasi momento dovesse diventare troppo per te puoi mettere in pausa il video, tanto io rimango qua. Oppure puoi semplicemente staccare, distrarti, fare qualcos'altro. Allora, ti chiedo innanzitutto di rilassarti, di portare l'attenzione al tuo respiro e faremo qualche respiro assieme, utilizzando la tecnica 4, 5, 7 quindi inspiriamo per 4 secondi, tratteniamo per 5 ed espiriamo per 7 ok? Ne facciamo 3 allora allora il secondo ancora uno benissimo benissimo adesso adesso ti chiederò di compiere il passo difficile ti chiedo di pensare a quel trauma a quella situazione che ti tormenta che ti tormenta le giornate che ti fa male che ti fa soffrire silenziosamente voglio che ci pensi porta la tua attenzione a questa cosa dolorosa pesante potrebbe essere qualcosa del tuo passato che non hai mai detto a nessuno potrebbe essere qualcosa di recente qualunque cosa sia porta la tua attenzione lì se hai bisogno puoi mettere in pausa pensarci puoi tornare qui se sei troppo intenso puoi scegliere qualcosa di più gestibile e poi mano a mano se decidi di continuare con questa tecnica potrai arrivarci a quella cosa grande qualsiasi situazione che ti impedisce di vivere le tue giornate con tranquillità e serenità potrebbe essere un qualcosa di invalidante magari un'ansia patologica un qualche tipo di fobia falla falla venire a galla portala in superficie tienila qui nella mente la stai guardando adesso adesso io ti do cinque secondi per dirla o ad alta voce o nella tua testa cinque cinque quattro tre due uno dimmela rimane tra noi rimane solo tra noi nessuno lo saprà è uno spazio è uno spazio completamente sicuro ti puoi fidare di me se non ti fidi lo capisco ma sappi che il mio unico intento è aiutarti anch'io ho avuto delle brutte brutte situazioni in passato ma si riescono e si possono superare adesso adesso è qui davanti a noi tra noi questa cosa che hai detto è qui è qui e hai avuto molto coraggio molto coraggio a dirla davvero adesso inizierò con degli stimoli uditivi e durante tutto questo io ho bisogno che tu mantenga l'attenzione su quella cosa ok se in qualsiasi momento hai bisogno di fermarti fermati metti in pausa ok iniziamo negatività 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 trauma ascolta 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 attentamente attentamente ascolta attentamente Trauma Vocalizzati Vocalizzati su di me Repressione Repressione del trauma Ascolta Ascolta attentamente Da orecchio Repressione e trauma Tristezza Vocalizzati Vocalizzati Ansia Repressione trauma Vocalizzati 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 Adesso Voglio che mi dici il tuo trauma Dimmelo 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 il tuo trauma Nuovi inizi Dimmi il tuo trauma, dimmelo fra 3, 2, 1, nuovi inizi. Piangere fa bene, piangere fa bene. Nuovi inizi, focalizzati, focalizzati su di me. Adesso continuerò con degli stimoli visivi, userò una luce, ma io ho bisogno che continui a focalizzarti sul trauma. Ok? Continua a focalizzarti, per favore. Continua. Luce. Focalizzati su di me, focalizzati su di me, su di me, ok? Focalizzati, focalizzati su di me, ok? Tieni ben presente quella cosa che ti tormenta, tieni ben presente, focalizzati su di me, focus, focus, ok? Ben presente, ben presente, ben presente, vicinanza, vicinanza, vicinanza. Focalizzati, focalizzati su di me, focalizzati su di me. Focalizzati, luce, luce, luce. Focalizzati, focalizzati su di me, 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 focalizzati su di me fiducia, sicurezza, trauma continua a tenerlo a mente continua a tenerlo a mente trauma, guarigione vocalizzati su di me guarigione nuovi inizi nuovi inizi trauma adesso continuiamo sempre con questi stimoli focalizzati sulle dita che si muovono e non sul trauma focalizzati focalizzati sulle dita che si muovono focalizzati sulla fiducia sulla fiducia non sul trauma, ok, sicurezza, ok, dita che si muovono, fiducia, dita che si muovono, dita che si muovono, guarigione, 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 successo, fiducia, focalizzati sulla fiducia, focalizzati sulla fiducia, andare avanti, dare avanti trauma, dare avanti, focalizzati, focalizzati sui miei occhi, muovi inizi, focalizzati, focalizzati sui miei occhi, sui miei occhi, muovi inizi, focalizzati, focalizzati, andare avanti, focalizzati, 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 superare il trauma, successo, focalizzati, successo, rimuovendo il trauma, rimuovendo, rimuovendo il trauma, cosa stiamo rimuovendo? Dillo ad alta voce, cosa stiamo rimuovendo? il trauma, rimuovendo il trauma, stiamo andando avanti? Andare avanti? Stiamo andando avanti da cosa? Dillo, andare avanti? Superare il trauma? Stiamo andando avanti? Stiamo rimuovendo, rimuovendo il trauma, rimuovendo il trauma, rimuovendo il trauma, successo, rimuovendo il trauma, successo, per finire, per finire, sicurezza, fiducia, andare avanti, guarigione, andando avanti dal trauma, dando avanti dal trauma, uscendo dal trauma, respira, vai al tuo ritmo, respira al tuo ritmo, inizi dal trauma, inspira il trauma, inspira il trauma, inspira i nuovi inizi, respira il trauma, rimuovendo 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 il trauma finito va tutto bene? va tutto bene? nuovo successo nuovo spero ti sia stato d'aiuto a rilassarti almeno ti mando un grande 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 abbraccio grande 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 abbraccio buona notte grazie a tutti